Alessia Mazzaro in raduno con la nazionale Under-19, come procede la marcia di avvicinamento al torneo di qualificazione del mondiale Under-23? Allora sta andando tutto bene, sicuramente il lavoro che stiamo facendo è tanto, però stiamo cercando di dare il massimo e prepararci al meglio per le prossime competizioni. È un gruppo che vi conoscete molto bene, già diverse manifestazioni, qual è uno dei punti di forza secondo te? Sì, allora probabilmente è più di un paio d'anni che siamo assieme e la cosa più bella è che comunque ci conosciamo tutte, sappiamo il carattere di ognuna di noi, quindi riusciamo benissimo ad andare d'accordo tra di noi. Guardando un po' più avanti, il grande obiettivo è il campionato europeo di categoria, cosa vi aspettate? Sì, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre avremo gli europei e sicuramente vogliamo fare bene, abbiamo ancora tanto tempo per prepararci, speriamo di arrivare in alto. Stare così tanti mesi fuori da casa, come si convive con le compagne? Beh, dura, ma abbiamo avuto tanto tempo e ci abbiamo già provato, sappiamo che dobbiamo sopportarci un pochino, ma ci riusciremo alla grande. Una compagna a cui ti senti più legata? Alì su qua mio. Come mai? Già dall'inizio abbiamo legato subito e siamo state sempre assieme, riuscire ad arrivare con lei fin qua è stata veramente un'opportunità unica e siamo divisibili adesso. Un obiettivo a livello personale? In cosa vuoi crescere particolarmente? Beh, sicuramente voglio conoscere tutti i fondamentali per essere un centrale forte e niente giocare di titolare in una Serie A.